Il Lega Pro sono giorni concitati per le iscrizioni alla nuova stagione. L'iter che dovrà poi condurre ad una divisione delle 60 squadre in tre gironi da 20, secondo il confermato criterio orizzontale. Prevede l'analisi della conformità delle carte da parte della Covisoc, organo amministrativo contabile della Lega Pro deputato a verificare la regolarità dei versamenti effettuati e delle relative fideiussioni a corredo. Nella giornata dell'8 luglio la Covisoc comunicherà l'esito delle istruttorie, mentre il 13 potranno essere presentati i documenti validi per ricorrere avverso eventuali esclusioni dal torneo per qualsiasi motivo. Il Consiglio federale del 15 luglio si occuperà di definire quali saranno gli organici per la stagione 2021-2022. Nel caso in cui si dovessero riscontrare delle bocciature anche rispetto ai ricorsi, allora si potrebbe procedere ai ripescaggi con cui integrare eventuali posti lasciati scoperti. Entro due settimane al massimo, quindi, conosceremo con esattezza le 60 squadre che andranno a comporre la Serie C e la relativa ripartizione in tre gironi secondo il criterio geografico orizzontale. Situazione drammatica a Gozzano. La società che ha vinto il girone A di Serie D è destinata a non iscriversi per gli elevati costi di gestione derivanti dal passaggio nei professionisti. Situazione complessa ma in via di risoluzione a Fiorenzuola, squadra vincitrice del girone D, mentre, come detto a più riprese, è praticamente out la casertana. A questo punto si dà il via al toto dei pescaggi. In tante ambiscono alla scialuppa di salvataggio per non perdere il posto al sole nei professionisti. Risultati sportivi che si miscelano ai bacini di utenza con un occhio alla storia passata del club. Tra le retrocesse in pole position c'è il Fano che per questo motivo non ha fatto finora mercato. Speranze anche per l'Arezzo. Per il posto attualmente vacante dall'ADI, quello del Gozzano, la gradatoria stilata dalla Lega Nazionale di Lettanti vede al primo posto l'Aianese, secondo il Picerno, che però non può essere ripescato a causa dell'illecito sportivo di un anno fa e quindi da depennare. Al terzo posto una delle due società di Messina. Ieri pomeriggio si è giocata la penultima giornata ed entrambe, la CR e l'FC, hanno portato a casa il successo. Domenica, ultima di campionato con la CR Messina, che in caso di successo contro il già salvo Città Sant'Agata festeggerà il passaggio in Lega Pro, relegando al secondo posto in campionato e al terzo dei possibili ripescaggi l'FC Messina. Attenzione a Latina, quarta in gradatoria, che potrebbe rientrare nell'otto delle papabili.